Oggi è una tappa importante di un percorso che abbiamo intrapreso come Consiglio regionale ormai da tempo. È una tappa fra l'altro impreziosita dalla presenza di un uomo delle istituzioni di grande spessore morale, di un grande magistrato come Pietro Grasso e credo che sia un'occasione importante per tutti gli studenti, per una sensibilizzazione soprattutto delle scuole su un tema di grande rilevanza. Le istituzioni possono e devono contribuire sotto questo aspetto. Le Marche non sono sicuramente una regione in cui la criminalità è fortemente presente, ma comunque non sono più un'isola felice come magari lo erano anni fa. E allora dobbiamo monitorare attentamente la situazione e occasioni come quella di oggi ci offrono un'ulteriore possibilità di riflessione e di approfondimento su un valore, che è un valore assoluto, che è quello della legalità.